Circa 6 milioni e mezzo di investimenti già concretizzati, altri 3 mezzo pronti ad essere utilizzati, oltre 6 milioni tramutati in opere per chiudere un contenzioso, un tesoretto da 10 milioni e mezzo per il quinquennio 2019-2023 e 60 milioni per il post via Veneto Strade negli ultimi anni ha avuto mandato di procedere con cantieri per quasi 87 milioni di euro in provincia di Belluno. E' quanto emerge dal resoconto sui lavori per la viabilità analizzato durante l'incontro tra la provincia e i vertici della società pubblica, per tre quarti di proprietà della regione. Negli ultimi 9 anni sono stati investiti due terzi di 9,9 milioni di euro previsti dalla convenzione tra Palazzo Piloni e Veneto Strade. Si è trattato di lavori di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità a cui vanno aggiunti gli interventi realizzabili con 10,6 milioni di euro di fondi governativi utilizzabili entro il 2023. Rientrano in questa partita l'illuminazione delle gallerie in Valle del Mis, già realizzata, e tre interventi pianificati per l'anno in corso, ovvero il risanamento di un ponte sulla Provinciale 5 alla Mosano, l'illuminazione delle gallerie della Provinciale 20 della Val Fiorentina e il ripristino di alcuni strati di fondazione stradale. Altri 6 milioni e 100 mila euro sono già stati investiti in virtù dell'accordo transattivo con Veneto Strade di un anno fa, che ha chiuso il contenzioso relativo ad alcune tranche mancanti della convenzione. Il capitolo più sostanzioso però riguarda il post-Vaya, 60 milioni di euro di risorse commissariali, regia regionale, di cui 39 già investiti per lavori determinati nel 2019, un esempio su tutti, miglioramento del ponte a Ponte Mas, già completato, ma anche partite ancora in corso, come la messa in sicurezza della Provinciale della Val Fiorentina a Selva. Per il 2021 sono stati finanziati interventi per gli altri 21 milioni, come la messa in sicurezza del ponte di San Felice tra Tricchiano e Sedico per poco più di un milione, oggetto anche di un intervento per un altro milione finanziato dai fondi governativi. Infine a Palazzo Piloni c'è stato un approfondimento anche sulle opere realizzabili con i fondi di confine, tra cui la Galleria della Palarossa a Lamont.